Ciao ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi con questo video cercheremo di capire una problematica tipicamente femminile. Sto parlando della menopausa. La menopausa infatti è una condizione assolutamente fisiologica che arriva statisticamente tra i 40 e i 50 anni e va ad alterare completamente il corpo femminile. Quindi è una problematica molto importante da saper comprendere e bisogna analizzarla con la massima serietà. È un tipo di contenuto molto importante non soltanto per le donne ovviamente ma anche per i maschi proprio perché bisogna essere consapevoli delle criticità che le donne hanno quando iniziano questa fase così delicata. Quindi dobbiamo assolutamente supportarle nella loro nuova fase di vita. Sì perché la menopausa ha tutta una serie di sintomatologie molto importanti come la depressione, l'insonnia, l'alterazione del metabolismo, l'ostoporosi eccetera eccetera. Quindi il corpo femminile viene completamente alterato non soltanto dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Bene prima di iniziare mi devo come sempre presentare. Sono il dottor Matteo Pieri, biologo nutrizionista, personal trainer e ogni giorno mi occupo di migliorare la qualità di vita dei miei pazienti attraverso la dieta, allenamento, movimento e integrazione. Inoltre gli aiuto a essere sempre più consapevoli e autonomi così non soltanto andranno a migliorare ma nel tempo miglioreranno costantemente e soprattutto riusciranno a mantenere i risultati. Ecco quindi cerchiamo di capire che cos'è la menopausa. La menopausa possiamo intenderla come una completa cessazione del ciclo mestruale. Questa alterazione viene legata appunto alla componente ormonale che naturalmente cambia nel tempo. Questa alterazione si porta dietro tutta una serie di sintomatologie e problematiche tipicamente legate alla menopausa. Quindi abbiamo un'alterazione del metabolismo lipidico, glucidico, un calo del dispendio energetico, un aumento dei livelli di grasso viscerale, un maggior catabolismo muscolare e osteoporosi. Quindi sono problematiche molto serie e vanno assolutamente gestite nel migliore dei modi. Altrimenti si rischia veramente seri problemi di salute e soprattutto quando si entra in menopausa l'aumento di rischio cardiovascolare è esponenziale. Quindi bisogna gestire al meglio questa condizione delicata attraverso la dieta, movimento, allenamento e integrazione. Dal punto di vista dietetico, quando si è in menopausa bisogna assolutamente fare un'attenta analisi della composizione corporea. Perché questo? Perché non ci deve essere assolutamente un eccesso di grasso e ci deve essere una buona massa muscolare. Quindi se si ha una condizione corporea ottimale si può assolutamente mantenere una norma calorica. Se invece si ha un eccesso di grasso, poca massa muscolare, bisogna inevitabilmente ridurre i livelli di grasso con una banalissima ipocalorica. Ecco quindi le calorie sono fondamentali per gestire la composizione corporea, quindi gestire la componente dello stoccaggio di grasso. Tuttavia però le calorie non sono tutte e dobbiamo assolutamente lavorare sulla qualità alimentare. Per qualità alimentare intendo l'inserimento di tutti quei cibi con una densità energetica bassa, come frutta, verdura, proteine magre, perché ci danno tanta sazietà e ci ottimizzano alcuni parametri. In particolare le proteine vanno a aumentare la statità, ma allo stesso tempo vanno a preservare la massa muscolare, una cosa molto critica ad esempio durante la menopausa, proprio perché c'è un catabolismo maggiore dei tessuti. Tra l'altra parte le fibre ci aiutano a gestire al meglio il metabolismo glucidico e lipidico, quindi dal punto di vista metabolico se controlliamo molto bene le quantità caloriche e la qualità alimentare possiamo attenuare davvero tanto le problematiche tipiche della menopausa. Un altro fattore importante riguarda ovviamente l'allenamento. L'allenamento ha la stessa importanza della dieta, uno perché permette di tenere i fabbisogni energetici alti, cosa che in genere durante la menopausa tendono a calare, quindi c'è una propensione all'aumento di grasso, ma dall'altra va a migliorare, a mantenere la qualità muscolare e va a migliorare il metabolismo osseo. Infatti in particolare l'allenamento con i pesi preserva la massa muscolare, addirittura la può aumentare, ma soprattutto va a migliorare il metabolismo delle nostre ossa. Infatti attraverso i meccanorecettori che vengono stimolati quando facciamo pesi c'è costantemente un turnover del nostro osso, quindi la salute ossea viene esponenzialmente migliorata attraverso l'allenamento con i pesi e l'osteoporosi e il catabolismo muscolare sono le problematiche proprio più classiche della menopausa e creano seri problemi di salute e nel tempo vanno a degenerarsi e si rischia di non riuscire più a muoversi, di fare sempre meno movimento ed è un circolo vizioso per cui la condizione va a peggiorare sempre di più. Quindi una corretta alimentazione e un corretto allenamento fatto con i pesi possono già attenuare tutte queste problematiche. Dall'altra parte però l'allenamento con i pesi non è l'unica soluzione, dobbiamo integrarlo con allenamenti e movimento volto al migliorare il potenziare il sistema cardiovascolare proprio perché la menopausa aumenta il rischio di problemi cardiovascolari. Quindi dieta, allenamento con i pesi e cardiovascolare vanno a migliorare la nostra salute. Dall'altra parte poi possiamo aiutarci anche con l'integrazione di vitamina D, creatina, di vitamina B12 proprio per non avere carenze e supportare la massa muscolare e la salute delle nostre ossa. Quindi per concludere, per non creare un video eccessivamente lungo, noi dobbiamo impegnarci a essere maghi, attivi, a fare allenamento contro resistenza e soprattutto farlo, farlo nel tempo agendo in prevenzione. Quindi non bisogna farlo soltanto quando si è in menopausa ma bisogna farlo anni anni prima. E bisogna, aggiungo un altro pestettino, mantenere livelli di stress molto molto bassi proprio perché lo stress come il fumo come l'alcol velocizzano l'ingresso in menopausa e ne aumentano i sintomi. Quindi bisogna essere persone, donne felici che fanno sport, movimento e una corretta alimentazione mantenendo sempre livelli di grasso ottimali. Con questo video spero molto semplice è tutto e ci vediamo con il prossimo.